Paul Gascogne. L'ex calciatore si sta dando molto poco da fare anche grazie al suo infortunio al braccio che, per ovvie ragioni, lo obbliga a fare meno forzi. Eppure, nonostante le difficoltà fisiche e di comunicazione, Paul Gascogne non è di certo un'anima pia. Nel corso delle nomination segrete fatte nella puntata del 19 aprile 2021, l'ex calciatore si è lanciato di alcuni gesti offensivi nei confronti di Fariba Terani. Nel corso della sua nomination nel Segreto della Palapa, Paul Gascogne ha voluto punire con il suo voto Fariba Terani in quanto, a suo dire, è una donna falsa e bugiarda. Dopo aver citato alcune sue affermazioni, l'ex calciatore ha voluto deliberatamente offendere Fariba dicendo che finge di scordare le cose o che se non lo fa apposta, ha l'Alzheimer. Una affermazione poco gradita sui social in quanto non si dovrebbe denigrare qualcuno tirando in ballo una seria malattia degenerativa. Ma ancora peggio ha fatto poco dopo. Prima di bruciare la fotografia di Farina Terani come da rituale, l'ex calciatore ha afferrato la pergamena con una mano, ci ha sputato sopra e se l'è strofinata su una natica. Poi ha buttato la foto nel calderone ardente. Il gesto è stato ripreso anche dalle persone in studio, che gli hanno subito chiesto di scusarsi per il gesto. Che gesto orribile! Voi cosa ne pensate?